Come si comportano i corpi solidi, i liquidi e i gas? Che cosa sono il calore e la temperatura? Quali sono le leggi fisiche che descrivono i fenomeni collegati a queste grandezze? Grazie a questo corso scoprirai il mondo della fisica, potrai approfondire lo studio della meccanica dal punto di vista dei sistemi materiali e sarai in grado di risolvere problemi di meccanica dei fluidi. Avrai la possibilità, attraverso le attività di laboratorio, di riportare lo studio della fisica nel suo ambito più naturale, ovvero quello sperimentale. Studia i fenomeni naturali e impara a tradurli nel linguaggio matematico. Cosa aspetti? Studia i fenomeni naturali e impara a tradurli nel linguaggio matematico.